OST 2021 continua, la fiera della ripartenza ci vede ora allo stand di La San Marco, l'azienda che proprio quest'anno festeggia i cento anni di attività e siamo con il CEO dell'azienda Roberto Nocera, Roberto bentornato. Grazie e benvenuti a voi tutti allo stand La San Marco. Questo stand quest'anno rappresenta davvero una ripartenza, voi negli ultimi 18-20 mesi non vi siete fermati ma al contrario avete continuato a lavorare, a sviluppare ricerca realizzando poi una nuova linea di cosa si tratta. Corretto, La San Marco non si è mai fermata neanche durante i due conflitti mondiali e non lo ha fatto neanche in questo Annus Horribilis, ha investito nei momenti in cui la produzione ha rallentato in ricerca e sviluppo. Abbiamo creato in occasione del nostro centenario due linee di modelli completamente, assolutamente innovativi. La linea D di macchine automatiche che saranno sicuramente la delizia dei baristi professionisti in quanto consentiranno agli stessi una sartorializzazione dell'espresso, tenendo conto della specie botanica utilizzata, della tostatura di questa veranda, dei grani e dell'origine. Non dimenticando naturalmente i diversi gusti presenti in ogni angolo del mondo e diversi tra loro. Roberto, quali sono le caratteristiche dei vari modelli della linea D? Dunque la linea D che noi abbiamo chiamato per la sua preziosità la collezione D si articola in tre modelli. Un modello base monocaldaia, un modello multiboiler che permette la profilatura della temperatura per adattare quest'ultima alle diverse origini di caffè utilizzata e poi la top di gamma la MBV, una multiboiler con sistema elettronico di profilatura della pressione e della temperatura. Profilatura della pressione brevettato è un sistema proprietario in quanto realizza questo obiettivo cioè di controllare istante per istante la pressione di erogazione con una modalità assolutamente innovativa. In particolare possiamo anticipare questo. La profilatura è realizzata tramite motori passo passo che consentono oltre che una precisione, un'accuratezza decisamente maggiore delle classiche elettrovavole proporzionali che si ritrovano sul mercato ma anche un contenimento del consumo delle energie non rinnovabili che abbiamo misurato essere intorno al 25-28%. Tuttavia, certamente loro lo avranno notato, noi abbiamo alle nostre spalle un ulteriore modello di cosa si tratta? La San Marco è leader anche delle macchine a leva, leader mondiale quindi noi abbiamo voluto proporre una novità anche in quest'ambito, la prima macchina a leva multiboiler. Anche qui quindi il barista si potrà spassare regolando la temperatura di ogni caldaia al variare della materia prima a disposizione. Ma non finisce qui perché contemporaneamente in questo centesimo anno è stato creato anche un manuale. Corretto, io credo che saper convertire le innovazioni aziendali in valori percepiti dai clienti è la strategia necessaria per restare leader di mercato e per guadagnare la vera ricchezza che un'azienda possiede, cioè la reputazione. Per questo abbiamo chiesto l'aiuto di due celeberrimi caffè esperti e aromateller, Andrei Godina e Mauro Iliano, che hanno realizzato una full immersion di 5 giorni in azienda provando diverse ricette da utilizzare sulla macchina D al variare della miscela a disposizione. Abbiamo praticamente, loro hanno portato diversi caffè speciality, monorigine o miscele con diversi gradi di tostatura in modo da coprire sostanzialmente tutta la tipologia di caffè che si possono ritrovare sul mercato. Avendo fatto questa analisi estremamente rigorosa, quindi avendo fatto una ricetta ottimale per ogni miscela di caffè, qualunque barista che riceverà la D, leggendo il manuale, riuscirà a trovare la configurazione giusta per il caffè che sta usando in quel momento. Ma è un manuale che poi spiegheremo in un'intervista dedicata con Andrei Godina. È reperibile anche online per tutti i tanti coffee lovers che vogliono saperne di più? Assolutamente. Da ieri è disponibile sia presso le edizioni Medicia sia sul nostro sito web e quindi acquistabile. Naturalmente sarà un cadeau prezioso per tutti coloro che acquisteranno una delle tre versioni della collezione D. Roberto, grazie per il tuo preziosissimo intervento. Ancora buon centesimo compleanno, cent'anni ma non li dimostrate. Grazie a voi tutti e venite in azienda a trovarci. Grazie.